Ciao Fabio. Alberto, ti ritrovo. Ma ho saputo che ti hanno proposto di fare il manager di questa struttura per la gestione del recovery fund. Ma guarda, era praticamente deciso che io sarei stato il capo, non uno dei sei, perché io non avrei mai accettato di essere uno dei sei. Però dopo si è scatenata la sarabanda sul fatto che sono un evasore fiscale. Porca miseria! E' tutto nato da lì. E' tutto nato da lì. Ma guarda. Ho osato volare dove non osano le aquile. E questa è roba, secondo me, qualche d'uno all'interno della presidenza del Consiglio ti ha fatto lo sgambetto, sai. Hai qualche rivale che aspirava alla stessa posizione e ti è capitata la tegola in testa. Pensa a te. No, soprattutto questa vicenda, adesso chiariamolo un attimo al nostro fondatore, si riferisce a una vicenda vecchia che noi abbiamo già chiuso, abbiamo già pagato, c'è stata una transazione con l'agenzia delle entrate, 2 milioni punto 7, per cui non sono sorpreso che esca adesso, ecco. Guarda, ormai la giustizia orologeria in Italia ha pure gli orologi rotti, no? Arrivano con un mese di ritardo a fare lo scoop su una cosa che è già chiusa, quindi è tutto da ridere. Ma sai, i giornali in questi giorni gli è passata, come dire, la voglia di occuparsi di cose serie, perché con questo messo in Parlamento che è diventato un circo equestre, con le giravolte su Recovery Fund, su Berlusconi contro Brunetta, su, che ne so, di Battista contro Paduanelli e Figo contro tutti, ormai non sanno più che scrivere, quindi vanno a raccattare le notizie sballate. Comunque la storia dei sei manager, dei sei manager, dei trecento tecnici, te lo spiego subito come è nata. Dimmi, dimmi. Lì ha chiesto un'offerta a McKinsey, McKinsey ha detto, noi abbiamo una staff di trecento consulenti che possono lavorare a tempo pieno e abbiamo sei manager che possono derivare. Allora lì ha girato la storia dei trecento consulenti e lì nel casino generale di Palazzo Chizia ci hanno messo sopra trecento tecnici, buonanotte, sei manager. Non si sono neanche resi conto. Però adesso questa roba qui comincia a suscitare appetiti, cioè è partita magari da qualche uno, da qualche società di consulenza, però poi ha preso una vita tutta sua, no? Guarda, adesso onestamente, intendiamoci, non è che tu dalla mattina alla sera, queste cose sono cretine, se non è che tu metti su una struttura raccoglieticcia raccogliendo trecento tecnici qua e là per la pubblica amministrazione o con dei contratti, poi gli metti sei manager in cima e funziona. Esatto. Con i tempi che ci sono, cioè bisogna che i tecnici lavorino in varie certe procedure, bisogna che ci sia un certo approccio a come si lavora, bisogna che ci siano certi sistemi di reporting, bisogna che questa struttura abbia una sua linea informatica, bisogna che abbia un suo database, bisogna che abbia la sua cyber sicurezza. Non è che queste cose qui non si improvvisano e con i tempi che ci sono, con i tempi ristretti che ci sono per presentare questi progetti, l'unica vera cosa che io spero è che se si abbiano chiesto l'offerte a diverse società di consulenza, per affidarlo a uno o più o in consorzio o più società di consulenza. Ma secondo me neanche lo possono fare, perché ci vuole un procurement, cioè ci vuole un bando, e per fare il bando ammesso, cioè devi fare un badge, devi fare... Hai ragione, hai ragione, hai fatto una procedura, neanche lo puoi fare così brevi di mano, eh? Ma per il bando di emergenza, non so. Sai, di emergenza tu puoi dire, sai, se c'ho un'alluvione è emergenza, però se devi fare dei progetti, come fai a dire è un'emergenza una cosa che si sa da dieci mesi? Ah no, ma allora, sì, comunque, 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 serve una struttura dedicata per fare sta roba qui, ma una struttura già rodata. Non solo, ma io ti aggiungo un altro elemento. Questa struttura qui, che poteri ha? Cioè, tu nomini questi sei personaggi, con 300 persone a disposizione, ammettiamo pure che le riesci ad assumere, che tutti quanti, così, in 15 giorni arrivano a Roma, trovano gli uffici, perché, sai, 300 persone, uno straccio d'ufficio glielo devi pur dare, quindi, oppure non è che si accampano a Villa Panfili, per dire. Smart working, smart working. Beh, sì, vabbè, smart working. Voglio proprio vedere come cazzo mi stanno parlando. Ma, ammettiamo che hai questo, così, questo quacervo di personaggi dalle indubbie capacità. Che poteri hanno questi? Cioè, i sei manager li portano a Palazzo Chigi, a sta struttura che dovrebbe essere Conte, Patuanelli, Gualtieri e Amendola, quindi tre, quattro, poi non so, magari aggiungeranno qualche altro ministro. e quindi dicono va bene, farò il ponte sullo stretto, tanto per dire. Ma se il ponte sullo stretto non viene approvato da un'autorità, questi 300 poveri malcapitati, come faranno a gestire una cosa del genere? Cioè, non è che possono passare sul corpo dei ministeri, degli enti locali e di tutto il resto. Quindi, se devono fare un'autostrada, dovranno dire, qui bisogna espropriare i terreni. Ma non è che li possono espropriare loro. i terreni li deve espropriare, c'è una procedura ad hoc per fare tutto il resto. Quindi, non è che prendi la gente in mezzo alla strada, dici, fammi le infrastrutture, fammi il progetto sulla parità di genere, fammi la riconversione vera. No, io penso che la strada serve per ricevere i progetti dalle varie amministrazioni locali e centrali e poi uniformarli e priorizzarli. Io credo che lì a Palazzo Chigi ci sia una valanga di progetti scritti, alcuni in verticale, altri in orizzontale, altri in lire costanti, altri in lire eurocorrenti, scusa, altri a certi tassi di cambio, con certi tassi di ARR. Cioè, credo che tutti completamente incomparabili. Ok? Io credo che questa struttura serva per compatibilizzare i progetti, metterli a confronto, metterli in priorità, metterli insieme, vedere le duplicazioni. Io così la immagino. In parte è così, perché, qual è la parte che è come descrivi tu, più o meno? È quella sulle infrastrutture. Ma, ad esempio, ci sono la parte grossa, del, diciamo, la maggior parte dei soldi, dovrebbe andare in progetti di ristrutturazione ambientale, cioè il Green New Deal, la riconversione verde, chiamala come vuoi. Quelli lì, numero uno, devono essere progetti nuovi. Anzi, tutti i progetti del Recovery Fund devono essere progetti nuovi, che non erano stati finanziati, che non erano mai stati approvati. di scu, cioè il ponte sullo stretto di Messina, tanto per capirci, secondo me, quando lo presentasse, se uno lo presentasse a Bruxelles, loro direbbero no, perché se ne parla da, non so, quattro, da cent'anni, e se non l'avete fatto in cent'anni, è inutile che venite a raccontare storie adesso. Però poi ci sono, che ne so, questioni sulla parità di genere, che tra l'altro sono 17 miliardi, 17,1 miliardo, per essere precisi, a fronte di 9 miliardi per la sanità. Cioè, io non lo so che cavolo abbiano in mente, ma non credo che le amministrazioni locali, o anche quelle centrali dello Stato, abbiano a disposizione, abbiano già messo a punto progetti per 17 miliardi su qualcosa che ha a che fare con la parità di genere, a parte forse gli asili. Siamo proprio che la fantasia progettuale è infinita, eh? No, potremmo che siano gli asili, per cui ci si sa, per permettere alle madri di lavorare senza s'occupare dei figli, quello potrebbe essere un filone. Ma, per esempio, l'idrogeno verde, che è uno di questi sacri graal di cui si parla, a me non risulta che l'amministrazione centrale o quelle periferiche abbiano qualcosa di pronto. Forse ce l'avrà, non lo so, l'Eni, la Saipen, queste aziende di Stato. Ce l'hanno pensato, ma non so. Ma lì arrivano i progetti dell'Enel e dell'Enel, eh? Eh, quelli sicuramente, lì ci sta la corna. Alla parte del Leone? I progetti delle grandi lobby? Eh sì, Trenitalia, no? Tra l'altro Trenitalia è già i più grossi driver di investimenti in Italia, quindi è chiaro che questo ruolo non se lo lascia sfuggire con il Recovery Fund. Però la verità è una e una sola per chi non avesse capito. Questi progetti sono finanziati a debito per la maggior parte, diciamo per tre quarti. Quindi ogni euro che tu spendi deve generare almeno un euro virgola qualcosa perché se no il debito non lo ripaghi. Quindi, pure con i tassi di interesse bassi, non è che tu finanzi la sagra della cipolla di San Caluppo di sopra perché quella non ti genera un flusso di cassa, un flusso di ritorni per un tempo molto lungo. Ti genera magari un po' di consumo nell'anno in cui fai la sagra e poi finisce lì. Ma ti rimane il debito della sagra. Quindi il problema non è solo trovare i progetti così per spendere i soldi a cavolo. Devono essere progetti che generano ritorni. E già per esempio... Fabio, però queste cose qui le sappiamo tutte, ma ti immagini l'immondezzaio che sarà adesso? Esatto. Esatto. E' quello il vero rischio ed è quello il motivo per cui quando presenteranno l'immondezzaio al vaglio della Commissione europea buttatelo nel bidone e ricominciate da capo. Andrà compattato, bisogna fare dei riassunti, bisogna fare dei... Capito? Sì. Bisogna fare... Io non so che struttura possa fare un lavoro di questo genere. Beh, ma poi vanno... Sai, alla fine tu devi... Se c'è un'infrastruttura devi fare il progetto esecutivo. è quello che devi presentare a Bruxelles, non le chiacchiere vaghe. Perché il progetto, tu hai lavorato in banca mondiale, lo sai meglio di me, è un qualche cosa che è abbastanza dettagliato. Quindi non può essere un wishful thinking. Sì, magari tutte le... Sì, magari... Ma sarà tutta una porcheria di progetti affastellati uno sopra l'altro, scritti in modo diverso. Io credo che Palazzo Chigi sia inondato da queste robe qui. Infatti, assolutamente. Le robe varie, così, che si sono messe a scrivere dei progetti. No, ma li hanno sollecitati, poi, tra l'altro, quando già da quest'estate hanno chiesto alle varie amministrazioni ma andateci a... Ma tu lo sai a che punto siamo adesso? Ci sono arrivati questi progetti? Quanti sono? Non lo sappiamo. No, perché quello che si sa di ufficiale è ancora la parte, diciamo così, il documento abbastanza vago presentato a settembre. Poi, il governo ha presentato questo piano, il PNRR, che doveva contenere diciamo dei dettagli più precisi e però Renzi e altri si sono messi di traversa, hanno detto così, non se ne parla, la bella nuova ha detto che questo è incostituzionale, probabilmente riferendosi al fatto che la struttura dei sei manager e dei 300 funzionari non potesse esaurare i poteri decisionali del Parlamento e e dell'esecutivo. Quindi, Alberto, parliamoci chiaro, il messaggio che hanno mandato a Conte è questo. Caro Conte, tu lascia perdere questa struttura perché se ti illudi che metti tu le mani su questi soldi non hai capito nulla. Quindi, questi soldi tu non li gestisci. Questi soldi servono a rafforzare le varie posizioni di potere, di clientele, di consenso, eccetera, eccetera, in giro per l'Italia e quelli ce li gestiamo noi partiti, noi abbiamo il radicamento territoriale e che abbiamo appetiti da sfamare. Tu stai lì perché sei bravo a mediare, sembrare a convincere Di Maio a non litigare con Lezzi e la Taverna a non litigare con qualche un altro, ma non ti illudere che conti qualcosa. Stai lì come, diciamo così, figura, garante, poi parli bene, c'è la pochetta, ti metti la mascherina senza particolari difficoltà, ma non sei tu quello che ha il potere e quindi questo è il messaggio chiaro. Di questo messaggio adesso, capito, questo messaggio adesso bisogna farlo digerire a conte, numero uno, e poi in genere i grillini, le varie fazioni grilline si devono mettere d'accordo su chi gestisce cosa, su chi decide tagliare e via dicendo. C'è tempo per fare tutto questo? Secondo me no, secondo me non c'è tempo materiale, poi chiaramente la politica italiana è talmente raffazzonata, talmente sconclusionata, chissà dove porta questo processo completamente farraginoso. ma io dubito che quando bisognerà mandare a Bruxelles i progetti e quindi stiamo parlando di febbraio o marzo esca qualche cosa che abbia la possibilità di superare l'esame. Ma secondo te è arrivato qualcosa adesso? I progetti dove sono? No, non si sa. No, è quello che si sa perché tra l'altro questo piano io l'ho cercato su internet non mi sembra che sia stato divulgato il documento vero e proprio. Ci sono una marea di articoli di giornali più o meno dettagliati evidentemente Casalino l'ha fatta avere alla stampa i giornalisti non hanno potuto pubblicarlo però hanno potuto leggerlo almeno un executive summary che ne so qualche un estratto quello che sia e hanno divulgato quali sono più o meno le cifre stanziate per ogni capitolo di spesa per cui ecco si sa 9 miliardi della sanità 17 per la parità di genere non mi ricordo 74 ma questo deve essere fatto da decine decine di progetti non è ripeto non non sono almeno io in grado di dire si sa che il totale sono 196 miliardi e ho capito ma ma che dentro questo cioè se tu mi dici per esempio nella parte istruzione e ricerca che cosa c'è non mi sembra che sia stato specificato magari ce l'avranno in testa quelli che stanno lavorando al dossier ma di specifico errore si ha messi male se tu non sai neanche se ci sono dei progetti dove sono arrivati a 196 fai una media di 100 milioni progetti o sono almeno 200 progetti capito ma ti aggiungo un'altra un'altra cosa che è interessante e non è che l'ho detta io o la dicono i denigratori di questo governo tre tre quattro giorni fa in uno dei tanti talk show il sottosegretario Missiani che è del PD sottosegretario all'economia se non mi sbaglio ha detto una cosa in Italia per i progetti per le infrastrutture con un budget di 100 milioni o superiore ai 100 milioni da 100 milioni in su il tempo medio di realizzazione sono 14 e passa anni quasi 15 che significa questo siccome i soldi devono essere spesi nella gran parte in due anni due ma poi sai puoi arrivare a tre ma insomma questi soldi devono essere sborsati messi in circolo in tempi rapidissimi per la burocrazia italiana se non cambi le regole l'ANAC il procurement il codice degli appalti e tutto il resto nessuna di queste opere vedrà la fine magari riescono pure a convincere la commissione di Bruxelles ma che questi poi in corso d'opera i ritardi i ricorsi altari i casini le proteste i comitati dei cittadini eccetera eccetera ti permettano di concludere tutto in due anni è fantascienza quindi non è solo la questione dei progetti non è solo la questione dei manager dei 6 man non è solo la questione delle 300 persone a raccogliere a cercare di mettere un minimo di ordine nel casino è che c'è proprio tutta la legislazione la regolamentazione la pretora di norme stratificate in 60 anni che o viene risboscata o di questi progetti non ne vedremo nemmeno uno vedremo appunto qualche cosa che si può comprare non so i tablet per gli studenti che devono fare didattica a distanza quella magari potremmo vedere che un po' di soldi verranno spesi per i vaccini e per la vaccinazione di questo tipo ma già la cablatura cioè la posa in opera delle fibre ottiche che è una roba di cui si parla da 15 anni in Italia da 15 anni chi si illude che potrà essere finanziata con un progetto del recovery fund secondo me sta male di testa va bene va bene Fabione va bene ciao Alberto ciao 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 Grazie.